Il ristorante Edefirem Rostec, situato nell'incantevole panorama bergamasco, a pochi passi dal santuario della Beata Vergine di Caravaggio, è una location unica, ideale per rendere indimenticabile il giorno più bello della vostra vita. Seduti su poltrone regali, potrete ammirare la splendida architettura che sovrasterà il vostro evento, con travia vista e prestigiose pareti in pietra, incorniciando con sontuosità il vostro giorno speciale. All'esterno è presente un ampio parco con piscina, i cui angoli scenografici saranno perfetti per amene passeggiate o per scattare le vostre irripetibili foto ricordo. La splendida terrazza, inoltre, può essere allestita per festeggiamenti en plein air con una spettacolare vista sulle vallate lombarde. Con la sua esperienza pluriennale, il ristorante si è specializzato in matrimoni, proponendovi una serie svariata di servizi tra cui scegliere. Potrete affidare al personale esperto qualsiasi dettaglio, dagli addobbi floreali alla stampa dei menù, certi che ogni vostra richiesta verrà esaudita a pieno. Inoltre, qualora lo desideriate, la villa potrà fare da sfondo allo scambio delle promesse, dandovi la possibilità di celebrare in loco la cerimonia nuziale. Curata in ogni dettaglio, la proposta gastronomica del Defirem Rostec contribuirà alla riuscita della vostra festa, deliziando amici e parenti comportate ricche di gusto e preparate con ingredienti genuini e locali, perché nel giorno più importante della vostra vita possiate apprezzare una cucina sofisticata e prelibata.